bella a tutti ragazzi siamo qui con un nuovissimo video siamo io e ale ciao a tutti in questo video giocheremo a un gioco chiamato non mi ricordo neanche io perfetto diciamo di di spongebob più o meno il problema qual è l'abbiamo avviato su un emulatore che non registra la grafica e quindi sarà sorpresa e tra tra qualche minuto capirete perché giusto per fare un po di introduzione al gioco i protagonisti sono spongebob timmy tarner jimmy neutron e l'altro tizio fantasma che non mi ricordo che non mi ricordo chi è danny phantom già il caricamento già da qualche indizio eccoci ecco perfetto ecco questo dovrebbe essere ed è tutto quello che abbiamo visto anche noi fino adesso questo dovrebbe essere il laboratorio di partenza laboratorio di jimmy neutron e qui questo non è un palo viola per dire ma è goddard il cane quello del insomma il cane di jimmy neutron quello robotico che dovrebbe essere il nostro come dire punto di potenziamento delle abilità man mano che prendiamo un moneta nel gioco peccato che questo nel laboratorio è indicato qua ma se negli altri livelli non sarà indicato dovremo insomma arrangiarci a trovarlo giusto per darvi un altro indizio di cosa ci rispetterà più o meno da questo lato di qua in teoria questa è una porta chiusa e qua dovrebbe esserci una parete che ci dovrebbe impedire di vedere cosa c'è dall'altra parte e in teoria io dovrei avere in mano una pistola perché posso sparare vediamo cosa però lui si vede ok possiamo iniziare il primo livello ah già e tra l'altro noi siamo lì dentro però i guantoni mi sono apparsi esatto e anch'io adesso la mia arma ecco le monetine almeno le vediamo a me dai pensavo anche peggio sinceramente per adesso si aspetta qua e la goccia che esplode ok dobbiamo uccidere 7 rati e adesso vediamo come verranno fuori i rati però in teoria visto che si vedono le monete ma che si faceva per nipone qua eh già però noi facciamo sapere quando possiamo cioè quando la gente è fantasma e quando possiamo colpirla perché no un po' si vede mi sa che il primo livello l'avanzo è falsa grafica no può essere quando non lo sapevamo ma ti abbiamo ucciso il 5 6 no c'è uno pensavo anche io con sonrate invece c'era la goccia che veniva c'era dal dal soffitto ah si ecco qua maiale dobbiamo parare con lui ok c'era qualcos'altro nascosto non so quanto o quanto ci servono effettivamente le monete tanto siamo lo stesso sempre over power ah monete vabbè dai pensavo in effetti pensavo anch'io andasse peggio per il momento ok almeno i modelli anche dei nemici ce li abbiamo quantomeno ma tu immagini magari adesso non so cosa sto prendendo cos'era quella roba lì non lo so c'è qualcosa questo è il chiacchino o è qui non lo so ah la leva buono tipo questo questo qua lo facciamo capire quando è fantasma cioè così è fantasma quando è giallo non è fantasma mi diede col boia no quando è giallo stasera qualcosa eh adesso vediamo ok buono ah ce ne ho ancora uno due e io sono uno di questi due vero ah perchè hai riparato il polvo giusto uh uh lo so lo so dobbiamo fare tutto il gioco senza potenziarci ma niente eh ci sta ah non ha senso prenderlo si esatto possiamo schifare tutte le monete ma quantomeno almeno vediamo i nemici eh vabbè dobbiamo mandarlo avanti no ecco è l'altro bisogna prenderlo ah si ah già ma sono solo monete eh ma quella leva là quella leva là c'è proprio la porta hai ragione se non sbaglio questi qua anche nel gioco vero sono verdi i tizi seduti al tavolo davvero l'unica cosa è l'unica cosa che rimane uguale ah ce la leva qua in cima ah è goddard ah questo si è visto ok ah ok però vabbè abbiamo deciso che lo facciamo senza alcun potenziamento quindi non utilizzeremo goddard andiamo davanti quindi potremmo anche andare avanti senza ammazzare nessuno ah hai ragione non sar fuori sotto il gioco dici che si può fare? si potremmo fare una sorta di speeder esatto vabbè qua c'è il potenziamento eh esatto però di chi è? danny phantom e questo? ah no vengono fuori i nemici dai si i due spettri magici esatto vai i non sono stati vedi arco boia buono buono aspetta che arrivo non ci vedo niente mmm ce l'ho fatto buono possiamo proseguire non so che cosa ho preso esattamente io sto posto non lo ricordavo ciao che nella versione originale ma se mi provassi a cambiare il render grafico mentre stiamo giocando ve lo farà fare l'emulatore? eh però oh eccolo qua anzi siamo quasi colorati adesso si però strisce vabbè dai non so se sia meglio o peggio di prima sinceramente no ne so solo che il dubbio che mi resta è quando ci saranno guarda che ora quante spaventi madonna inquietante inquietante spongebob ma no spongebob ah lo sto qua non mi ricordo neanche più oh spinale un po spinale mi sono qua da schivare quel colpo lì che succedeva? ah già mi si è trasportato non possiamo colpirlo dobbiamo far fuori i suoi scagnozzi si e dai eh no uno l'ha ammazzato due è tornato anche lui ah già la cazzo fa con la sua cagata del questa qua è morto è morto chi è morto dei nostri? ah uno è morto danny phantom quasi morto è forte continua a guardare dove lei in fondo a farsi colpire dal fantasma cioè se è stupido non è che abbiamo colpa a noi la vita che lo faccio ah no ci ha sprecato una vita però così ma cos'era quel raggio non ricordavo che sparassi i raggi i raggi è morto vai cosi morto un basterdo famooos mamma mia buono bene ottimo direi che completato bella ciao a tutti al prossimo forse